Sarà l'Aquila la prima città al mondo a sperimentare una nuova generazione di fibra ottica superveloce nata nel laboratorio della multinazionale giapponese, la Sumitomo, che ha scelto l'Aquila per attuare e sperimentare un prodotto realizzato sinora soltanto in laboratorio. La nuova fibra ottica è in grado di far viaggiare, detto molto semplicemente, i dati a una velocità maggiore di qualsiasi altro tipo di fibra esistente al mondo, moltiplicando di 10-15 volte la velocità di percorso. Il risvolto positivo nella vita quotidiana è davvero sorprendente, in quanto permetterebbe di aiutare a risolvere ad esempio il problema dei cavidotti saturi in un momento storico in cui la domanda di fibra è aumentata in maniera inattesa e straordinaria. A parlarne è il docente di telecomunicazioni dell'Università dell'Aquila, Fabio Graziosi. La tecnologia è già stata sperimentata e qualificata in contesti di laboratorio, questa è la prima volta che si realizza un cavo e si vanno a fare le verifiche in un contesto realistico di propagazione, cosa che fino ad oggi non è ancora mai avvenuta. Si tratta di un anello che parte e torna a Palazzo Camponeschi passando per la villa comunale. A convincere l'azienda giapponese che l'Aquila fosse la città giusta per sperimentare i cavi Malticor è la presenza del tunnel dei sottoservizi e l'esistenza all'interno dell'Ateneo Aquilano di un gruppo di ricerca d'eccellenza nel campo delle fibre ottiche. Il cavo è già in sede, le attività preliminari di verifica e di misura sono state già realizzate. Il laboratorio verrà inaugurato il 6 giugno prossimo alla presenza anche dell'ambasciatore giapponese in Italia e di altre rappresentanze del governo italiano e anche della comunità scientifica nazionale e internazionale perché il giorno dopo è anche previsto un workshop tematico e all'Aquila avremo i principali ricercatori al mondo su questo tema a confrontarsi sull'utilizzo di questa infrastruttura. Quindi subito dopo le attività del laboratorio avranno inizio ed è importante sottolineare come abbiamo già prenotazioni da parte di importanti realtà come i Bell Labs statunitensi, l'Università di Tel Aviv, tutti i posti nei quali le comunicazioni ottiche vengono studiate ai massimi livelli.